La narrativa delle donne è diversa e questa credo che... Quindi tu non hai mai pensato non faccio una figlia perché potrei avere poi dei problemi, cioè nel senso poi sarò fuori, come farò a gestirla, quindi l'hai vissuta come giusto che sia in maniera naturale. Sono una donna, posso procreare, voglio un figlio, quella persona che amo, adesso non è in toni particolari... Esatto, voglio un figlio, voglio una famiglia, voglio un lavoro. E io credo che sia una cosa fondamentale per noi non metterci di fronte alla scelta. Io quando sono entrata in questo lavoro ero l'unica donna, c'erano pochissime donne e nessuno aveva i figli. Perché senza figli? No, la donna è con i figli perché siamo capaci di una narrativa diversa, raccontiamo cose diverse e quindi... Ma secondo te le altre donne avevano paura di avere anche un figlio? Sì, allora c'è sicuramente la paura, il senso di colpa, il giudizio, il giudizio. Tutti quanti mi chiedevano... Il giudizio? Ma tu come fai con una figlia? A nessun collega maschio, nessuno avrebbe mai chiesto ma come fai a fare questo lavoro con dei figli? A nessuno? E allora se non lo chiedi loro non lo chiedi a me, oppure lo chiedi a tutti e due. Perché? Perché moltissimi colleghi maschi avevano nostalgia o stavano con i figli e così esattamente come stavo io. Non è un problema di genere.